Io ai lavoratori del mare, più che un augurio, ho un'esortazione. Dalle mie parti si dice aiutati che Dio ti aiuta. Noi la battaglia la stiamo facendo, la stiamo facendo con vehemenza, perché sennò la razza dei marittimi italiani a cui appartengo è una razza in essenzione. Al sud non abbiamo bisogno di elemosina, legacy, reddito di cittadinanza, perché di elemosina si muore, non si campa. Abbiamo bisogno di opportunità di lavoro, abbiamo bisogno di infrastrutture, infrastrutture che siano funzionanti. Nessuno mi ha detto illuminato, mi hanno detto più che illuminato, fulminato, per non fare i cazzi miei, nel senso di sbarcare tutti i giovanotti che stanno qua e imbarcare extracomunitari sottopagati. È probabile che sia fulminato, ma prima di essere armature faccio il marinaio. Sono un marinaio, vivo il mare. Questa è l'educazione che mi ha lasciato il mio padre, che molti di loro ricordano è della nostra storia.